Mi chiamo Claudio Tagliavini, sono nato a Savona l'11 aprile del 1937, sono entrato alla Scarpe Magnano nel 1960, in quel momento avevo appena finito gli studi, anzi non li avevo ancora finiti perché mi ero poi iscritto all'università e tramite mio padre ho avuto l'occasione di entrare a lavorare lì come impiegato. Mi sono trovato in questa fabbrica dove i tempi erano diventati già abbastanza duri, la storia di quella fabbrica lì per i tempi passati lo è stata durante la guerra, negli anni del 42, 43, 44 ed è un miracolo che ci fosse ancora perché c'è stato un momento nel quale quella fabbrica avrebbe dovuto andare ad essere trasferita a Milano perché la Montedison non voleva lasciarla a Savona, ma per volontà delle maestranze che in quel periodo erano politicamente molto impegnate, al contrario di quello che poi sono diventate negli anni seguenti, anche per un fatto molto semplice perché nel 1953 ne furono licenziati parecchi, se non ricordo male erano sui 300 mi sembra, ma non ne sono sicuro, non me lo ricordo. Il motivo per cui erano stati licenziati naturalmente era di natura politica, quella fabbrica era, come dicevano alcuni, era un covo di comunisti, per cui c'era anche chi questa cosa non la tollerava e hanno cominciato a sabotarli. Al momento che è arrivata la Montedison ha detto questi li buttiamo fuori e così è stato. La fabbrica poteva anche essere trasferita a Milano, ma per opera degli stessi operai che erano molto rispettosi anche delle autorità della fabbrica, non erano, come dire, ribelli, anzi amavano proprio la propria macchina, il proprio tornio, la propria scrivania, qualsiasi cosa fosse, l'amavano proprio, amavano la fabbrica. Ancora adesso quando incontro qualcuno di quell'epoca mi continua a ripetere questa cosa, mi dice, noi eravamo veramente, era una famiglia quella e questo bisogna dire, forse era stata anche opera di scarpa, ma soprattutto erano i motivi forse di natura politica che li legavano molto, allora c'era il fascismo, quindi... e quando arriva io, negli anni appunto 60, era già passata tutta questa storia, le condizioni interne della fabbrica, parlo dell'hummus che c'era all'interno, non era più quello così caldo, amichevole, quasi familiare dei tempi precedenti. Erano cominciate, diciamo, le invidie, le corse per fare, per salire sulla seggiola più in alto, eccetera, eccetera. In quella fabbrica ci abbiamo lavorato quasi tutta la mia famiglia, mio padre, due miei zii, mia madre quando mio padre era militare e l'aveva sostituito, mio nonno, io, insomma, eravamo tutti nati lì dentro, in sostanza, ci avevamo vissuto. E quindi amavo anch'io quella fabbrica, perché ho conosciuto degli uomini, mi ricordo Mignati, mi ricordo Vaschetto, nomi che magari oggi non dicono niente, perché sono già anche morti da tempo. E dunque, Carlo Vaschetto, tra l'altro, era il segretario della cellula del Partito Comunista, della Scarpa Magnano, che si chiamava Sciolina. Mignati, lui e suo fratello hanno fatto la distenza, soprattutto il fratello Angelo, che è morto recentemente, il quale fu, se non sbaglio, anche vice comandante, se non sbaglio, di una brigata. E era tutta una serie, diciamo, di personaggi che lo vedevi proprio dal loro comportamento, ma anche dalla loro fisionomia. Si vedeva proprio che erano impegnati, non solo nel lavoro che gli faceva vivere, ma proprio negli ideali che avevano. Avevano degli ideali che si basavano su una speranza, per quanto mi riguardo ancora, di un mondo migliore. In quel momento non c'era più il fascismo, parlo subito dopo la guerra, perché durante la guerra loro avevano anche combattuto, ma dopo la guerra non c'era più il fascismo, ma il paese non era in pace. E dopo il 18 aprile del 1948 le cose si erano messe nuovamente, diciamo, critiche. E il problema della guerra fredda, eccetera, naturalmente aveva influito sulla mentalità dei lavoratori. C'era un classismo, gli operai e cose naturalmente che avevano bisogno di quel mondo migliore. La speranza ce l'avevano, ma ci credevano veramente. Gli altri, che in questi, direi, facevano parte dei partiti di destra, di centro, insomma, anticomunisti in definitiva. Ecco loro, per esempio, invece, e come dire, mantenevano un distacco da queste, cioè si era formato due popolazioni, una diciamo di destra legata ai partiti di sinistra e una di destra legata ai partiti cattolici, liberali, eccetera, eccetera. E qui nella fabbrica l'influenza fu negativa, perché si cominciò a parlare di spie, di delatori, eccetera, eccetera. E fare l'operaio ed essere comunista divenne molto difficile, insomma, anche se ormai i licenziati c'erano stati, ma si era parlato poi di chiudere lo stabilimento, di portarlo a Milano e però anche dopo la guerra negli anni 46, 47, 48 c'era questo pericolo, cioè che la direzione e chi simpatizzava per il padrone e naturalmente cercava di danneggiare questi operai che comunque avevano un'attività. Per quanto mi riguarda, poi io fui uno di quelli che furono spediti, il termine direi che è proprio usato, spediti a Bergamo, perché la fabbrica comunque, qui a Savona, non so perché, come tutte le altre del resto, perché è stata una storia dell'Ilo, è stata una storia da Lovro Moveri, un po' più tardi, eccetera, dalla Scarca Magnano, non so perché, piano piano, da una Savona che era prettamente industriale, sono riusciti a trasformarla in una città senza fabbriche grosse, insomma, e quindi fui trasferito a Bergamo dicendomi che era per un merito, in realtà mi hanno sbattuto là e poi dopo di me l'hanno fatto seguire di nuovo un altro centinaio di altri impiegati e che siamo andati nella bocca del leone, cioè nella, non ero neanche ancora la Montedison, ma c'entrava già, c'entrava già, poi diventata anche lì la padrona della fabbrica di Bergamo e altre e quindi alla fine i ricordi di prima, che pur non lavorandoci ancora, prima degli anni 60 ho vissuto esternamente, cioè tramite mio padre, i miei zii, eccetera, tutte le vicende che accadevano dentro questo stabilimento. Dopo il 60 diciamo che ho vissuto l'esperienza a Scarpa Magnano, non fino alla sua, al suo trasferimento in Val Bormida, perché sono andato via io da solo, dando le dimissioni nel 67 e in quei sette anni ne ho visto un po' di tutti i colori, perché mentre ho detto prima che tra i lavoratori di quella fabbrica c'era fratellanza, la parola giusta era questa qui, c'era fratellanza, io me lo ricordo quando sentivo i loro discorsi, in quegli anni lì invece veramente c'era anche lassismo sul lavoro, non c'era più quell'attaccamento al proprio strumento di lavoro, ai propri compagni, c'era proprio un lassismo, c'era chi, insomma, chi cominciava a sciare sul lavoro e preferiva magari riportare qualcosa alla direzione, al capo del personale, pur di fare un passo avanti, insomma. Onestamente sono stato un po', ma io dicevo all'ingegnere, il capo dell'ufficio, gli dicevo, ma guardi io come capitano di Marina qui sono fuori posto, perché non sono in grado di studiare disegni elettrici, di impianti elettrici, eccetera. E allora è andato un po', a un certo punto si è liberato un posto giù, mi hanno messo in una sala prove, è peggio che andare di notte, guardi che tanto è vero che io ho preso una scarica, ho preso una scarica perché essendo ignorante in materia, io non avevo fatto materia, ma materie elettriche, materie... e anche lì ho cominciato a dire, poi ho cominciato a chiedere anche lì, a dire, ma io qui sono fuori posto, non va a finire qualche giorno, faccio qualche guai, questa era un po' una situazione mia personale, ma non era l'unica all'interno della fabbrica, c'era molta gente che ci romaggava, fatto è che a un certo punto mi trovano il posto e vado negli uffici dove cominciava allora l'elettronica, ma era ancora quella fatta a schede, no? Io a un certo punto mi sono accorto per raccontare, diciamo, il clima che c'era, che ero stato messo lì con il preciso impegno dei tre colleghi che avrei avuto, che mi insegnassero a lavorare, perché anche quello non era il mio mestiere, sì uno può dire, ma tu capitano di marina che ci sei andato a fare? Ma io per delle ragioni che adesso non sto a spiegare, non sono andato a navigare e quindi dovevo avere un lavoro, insomma, quello lì mi è capitato e l'ho accettato molto volentieri. Siamo questi tre colleghi e non assolutamente continuavano a lavorare, ma non c'è niente da fare, loro comunque continuavano a lavorare e io giravamo anche in questo reparto e a un certo punto anche lì sono andato a chiedere, ho detto ma scusate qui, morale a fatto mi sono accorto addirittura che io uscivo alla sera dalla fabbrica e loro rientravano, me ne sono accorto dopo un po', rientravano dopo per farlo straordinario e non dicevano niente. Un giorno c'era uno sciopero, tutti assieme usciamo per fare lo sciopero, mi sembra che ci uscisse alle 10 e siamo usciti, al pomeriggio qualcuno mi dice, hai fatto sciopero stamattina? No, hai fatto tutto il reparto e gli altri tuoi colleghi c'erano a lavorare, insomma per dire com'era questo ambiente, com'era questo ambiente. Quando sono andato poi a Bergamo alla Magrini, perché poi si è fusa con la Magrini, occupazione di fabbrica, shopperi eccetera, e io ho detto beh allora questa è la volta che devo andare a navigare per forza. Ho fatto domanda, mi hanno dato subito una risposta e mi sono dimensionato. Durante il periodo degli anni 60 c'erano parecchi shopperi con intervento dalla polizia, camionette, lancio di lacrimogene eccetera, e una volta mi sono trovato in una cantina di via fiume, perché siamo scappati in due o tre per rifugiarci da quello, e invece ci ha buttato le bombe lacrimogene, come si chiamano, dentro la cantina, noi eravamo sotto e è successo il finimondo, insomma, e mi ricordo a quel tempo quando c'era la carica, che c'era uno, che tra l'altro lo vedo ancora adesso per strada, non so, in questi ultimi tempi, perché a una certa età, era quello che suonava la trombetta per fare la carica, e sono stati anni duri, poi quando c'è stato il governo Tambroni, ci sono state parecchie cose, a Genova, mi siamo andati anche a Genova, che c'era, e anche qua Savona, qua Savona c'è stato un cazavuglio con la polizia, insomma erano anni abbastanza caldi, quelli lì, e che presagivano forse qualcosa che oggi vediamo, perché la società invece che andare avanti è andata indietro, insomma. Comunque questi partigiani, questi uomini, i lavoratori, che hanno combattuto sulle montagne, in città, io tra l'altro faccio degli articoli per alcuni giornali locali, eccetera, e ho scritto spesso su questi argomenti, per esempio sentivo parlare di un partigiano, Iena, che lavorava al porto, ho fatto la sua storia, della lotta partigiana in montagna, dove naturalmente spiccavano anche nomi che io avevo conosciuto personalmente. per me, questi compagni che poi durante gli anni del dopoguerra, ma a venire in avanti, perché io fino, ecco mancano quasi tutti ormai da una diecina d'anni quelli che frequentavo in una società di mutuo soccorso, la generale, e c'era degli ottantenni quando io avevo 30 anni, 70, 25, 40, eccetera, non c'era diversità di età. Io ho imparato molto dagli anziani, e diciamo anche proprio a vivere, ma soprattutto ho imparato che cos'è l'amicizia. L'amicizia è l'essere un compagno, per me è stata formativa quella cosa lì, perché questi compagni anziani non mi volevano imporre le loro idee, ma ero io interessato e loro mi raccontavano, mi spiegavano, non potevo credurne che avevano fatto dei sacrifici per il motivo che dicevo prima, cioè per una società migliore e purtroppo sono morti non vedendola, ma se fossero ancora al mondo adesso penso proprio che piangerebbero.